Liberate il percorso, per favore? Il percorso. Luigi Magno. Ah, ecco i tuoi. Davanti, davanti. Che vuoi fare? La metto anche là. La metto anche di là. Guardaci, guardaci. Uno al centro. Una volta vicino al simbolo. Vicino, non davanti. Abbassati, abbassati. Anche più basso. No, no, più tempi. Perfetto. Grazie. Grazie.